Belvi, piccolo centro montano della Barbagia, si apre al pubblico questo fine settimana per raccontare un progetto intitolato A Fustigare, dedicato ai prodotti tipici della tradizione alimentare, dalle castagne alle caschette, meravigliosi dolci di pasta filo, sapa, mandorle e spezie. A Fustigare nasce dall'idea dell'Associazione per il Recupero e la Valorizzazione della Biodiversità della Barbagia di Belvi ed ha incontrato subito il favore delle istituzioni locali e regionali, poiché vuole proporre la valorizzazione della produzione delle castagne presenti in tutto il territorio del Genargento, che tante opportunità di sviluppo potrebbero portare all'economia locale. Una filiera agroalimentare che, partendo dal rispetto della biodiversità del prodotto, ne permette la trasformazione in frutta secca, in creme marmellate, in riciclo degli scarti, nell'attivazione di percorsi turistici tra i castanili, con gite dedicate alla raccolta e feste in campagna, un progetto che metterà a confronto esperti del settore no gastronomico, giornalisti. Ci saranno laboratori e degustazioni, menu a tema e seminari, partendo da una nostra tradizione secolare, quella della raccolta delle castagne, chiamata appunto a fustigare. Da alcuni anni stiamo portando avanti una serie di iniziative turistiche che vogliono richiamare l'attenzione sui nostri prodotti tipici e far conoscere all'esterno le nostre eccellenze no gastronomiche, spiega Sebastiano Casù, la presidente dell'associazione organizzatrice ed ex sindaco di Belvì. L'obiettivo finale del progetto è quello di arrivare a realizzare un itinerario escursionistico che dalla Sardegna si estenda alla Corsica, alle Alpi, gli arrivi persino in Slovenia, Austria, Svizzera e Francia.